Stereo 5 TV presenta l'Almanaco del Giorno in studio Luigi Comentale Oggi è mercoledì 13 settembre 2023, la Chiesa ci ricorda di festeggiare San Maurilio e San Giovanni Cristo Somo. La settimana era numero 37, i giorni dall'inizio dell'anno sono 256, ne mancano alla fine ben 109. A Roma il sole sorto alle 5.49 e tramonta alle 18.23 ora solare, a Milano alle 5.59 e tramonta alle 18.38, l'una che si leva alle 3.54 per tramontare alle 18.4. Il proverbio abbinato a questa giornata, ogni mortaio trova il suo pestello. Nel 1948 Margaret Shee Smith viene eletta senatrice, diventando la prima donna americana ad aver servito sia alla Camera dei rappresentanti che al Senato. A vent'anni di distanza la magistratura romana sequestra il film di Pierpaolo Pasolini Teorema. Per oscenità il film era stato premiato dall'Ocic. Nello stesso anno l'Albania esce dal patto di Varsavia. Nel 1970 c'è la prima edizione della Maratona di New York. Nel 1982 la principessa Grace rimane gravemente ferita in un incidente stradale in cui riporta due emorragie cerebrali. Muore all'indomani all'età di 52 anni senza aver mai ripreso conoscenza. Trent'anni dopo, nel 1985, esce in Giappone Super Mario Bros. è l'inizio dell'era di Nintendo. Nel 1993 viene il primo accordo tra Israele e Palestina. I palestinesi viene concesso un autogoverno limitato nella striscia di Gaza e a Gerico. L'anno dopo, nel 1994, la sonda Ulisse oltrepassa il polo sud del Sole. Infine, nel 1996, Tupac Shakur viene ucciso in una sparatoria. Buon compleanno quest'oggi. Li diamo a Cristiana Capotondi, attrice italiana. Nadia Rinaldi, attrice italiana. Elisabetta Corani, anche lei attrice italiana. Coraini, pardon. Neil Horan, cantante. Cesare Bocci, attore italiano. Ci lasciano oggi, nel 1592, Michel de Montagné, fu uno dei pionieri del pensiero moderno e uno degli aforisti più apprezzati, nato a Bordeaux, nel sud ovest della Francia. Nel 1996 ne abbiamo già parlato. Tupac Shakur, rapper e attore statunitense, salito alla ribalta negli anni 90. E per finire, nel 1928, Itaro Svevo, il più europeo degli scrittori italiani, a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento. Prima di salutarvi la nostra frase aforisma, la fortuna è come il vetro, più brilla, più è fragile, lo dice Publilio Sirio. Con questo noi chiudiamo il nostro almanacco. Un saluto da Gino Comentale, come sempre grazie per averci guardati. Appuntamento a domani da Stereo 5 TV. Ciao. Grazie.